Quando una catena imprigiona un uomo, deve essere tagliato solo un anello della catena per liberarlo. Ascolta la parola del Signore. Gesù spezzerà questo legame per te e ti renderà libero per una vita completamente nuova. Quando il figlio al prodigo tornò a casa, il pace non voleva conoscere i suoi peccati. Non c'erano accuse né domande. Gesù non è venuto per svergognare i peccatori, ma per salvare i peccatori, me e te inclusi. Il figlio ha fatto tutto quello che doveva fare e è tornato a casa. Questo è il tuo momento. Invoca il nome di Gesù. Vieni a casa.